eccoci qua siamo tornati nuova puntata di una finestra sul mondo e pensate la prima puntata andare in onda dai nuovi studi dell'ip group e siamo molto felici di questo molto orgogliosi e anche un po emozionati e allora torniamo torniamo e parliamo di televisione proprio perché spesso si sente dire che ormai i giovani non guardano la tv oppure che la tv è morta ma è realmente così bene allora si può dire che la televisione così come altri mezzi di comunicazione sia in un momento di trasformazione infatti è da alcuni anni che sono in commercio per esempio le smart tv ovvero quelle televisioni che possono collegarsi a internet così facendo non solo si possono guardare i canali tradizionali ma è possibile anche seguire i contenuti on demand quindi tradizione innovazione potremmo dire e poi gli italiani dunque hanno la possibilità di farsi un proprio palinsesto di scegliere quali film quali serie tv guardare e pensate che in italia si stima che gli apparecchi televisivi pensate siano più di 43 milioni quindi vuol dire che praticamente ogni famiglia almeno un televisore in casa una cifra così alta dovuta anche a questo bonus tv messo a disposizione del governo nell'anno appena trascorso per incentivare l'acquisto di nuove tv e decoder infatti siamo in un periodo dove i canali stanno cambiando frequenza per far spazio al 5g e i televisori più vecchi non sono più in grado di supportare il nuovo formato e poi sempre per restare in tema di televisione un argomento da sempre molto discusso è il canone rai pensate sapete benissimo fino a qualche anno fa si pagava separatamente tramite un bollettino postale ma in molti se ne approfittavano e non pagavano poi è venuta la svolta nel 2015 infatti il canone dal 2015 viene inserito nella bolletta della luce suddiviso in 10 mensilità da 9 euro ma dal 2023 tutto questo cambierà il governo italiano infatti si è preso l'impegno con l'europa di cancellare l'obbligo per i venditori di elettricità di raccogliere tasse non correlate all'energia ebbene abbiamo anche parlato in questa puntata di televisione proprio perché fino a due settimane fa si è concluso uno degli eventi più importanti in italia il festival di sanremo giunto oramai la 72esima edizione un evento da sempre molto seguito e ribattezzato da molti come il tempio della musica è stato un grandissimo successo sia di pubblico che ti critica amadeus conduttore direttore artistico per la terza volta consecutiva ha scelto delle canzoni che potessero accontentare tutti portando sul palco dell'ariston artisti dal calibro di gianni morandi e cantanti invece molto amati dai giovanissimi come san giovanni ebbene a voi è piaciuta la canzone vincitrice brividi di mamù de blanco ebbè questa domanda e ha molte altre le ha fatte il nostro inviato che è tornato al mercato e vediamo un po cosa gli hanno risposto a lei piace guardare la televisione se si quali programmi guarda normalmente normalmente guardiamo la televisione si anche tutte le sere ma abbiamo un po programmi leggeri di varietà e anche di cultura io guardo un po ne cinque il canale cinque e mattino ne primo e basta ma guardo su rai 3 geo informazione generale ma normalmente ultimamente sono quelli di natura perché la politica incomincia a rompermi le scatole guarda un po di tutto film telegiornale ma quelle di attualità quelle di i film spesso si sente dire che la tv è morta e che ormai è stata sorpassata da internet lei che cosa ne pensa riguardo la televisione a valida i programmi a volte sono validi la rai a volte trasmette cose un po scarse che potrebbe fare di meglio visto che prendiamo il canone e potrebbero fare qualcosa di più comunque insomma non lo so cosa ci devo dire non è che soltanto aspetta di sti cosi io l'importante che vedo quelle cose lì per me va bene effetti non è che ci sia un granché da vedere però insomma continuiamo ancora a guardare quello che fanno perché poi insomma su internet non tutti comunque vanno la tv e giornali penso saranno all'indefinito internet primo dopo siamo per il progresso ma non corriamo troppo perché troppa gente sta indietro basta che lei va da quel ufficio postale che c'è lì sopra se ne accorce per noi pensionati è un passatempo no 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 l'italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha inserito il canone della della televisione all'interno della bolletta della luce lei che cosa ne pensa ma secondo me sì così lo pagano tutti che prima non tutti ve lo pagavano e sono convinta che è una cosa valida sì perché così pagano tutti altrimenti c'erano i furbenti che non pagavano ne penso che non è giusto perché si pagano già con tutte le pubblicità per cui non è il caso ma sono d'accordo perché la maggior non la maggior parte diverse regioni d'italia hanno scoperto che non pagavano più canone pertanto si ridistribuisce in tutta la cittadinanza mi sembra che sia una cosa corretta io veramente non sarei d'accordo però purtroppo le cose stanno così sì perché così almeno la pagano tutti e se no c'era sempre quello che non la pagava e gli altri la pagano al suo posto in questi mesi abbiamo dovuto cambiare i nostri televisori non si decoder perché i canali hanno cambiato frequenza lei ha usufruito del bonus messo a disposizione del governo oppure no abbiamo cercato di usufruirne ma i negozi non erano autorizzati no io l'avevo già l'avevo già così che sì sì l'avevo già che si era rotta quella di prima e l'avevo già così no 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 perché fortunatamente la televisione l'avevo cambiata in questi ultimi quattro anni per il momento non ho dovuto però è una bella cosa per chi ne ha bisogno e per chi veramente non può fare questa no io non per adesso no non l'ho ancora cambiato no per adesso ancora no la canzone vincitrice quest'anno del festival è stata brividi di mamma de blanco a lei è piaciuta questa canzone oppure no a me è piaciuta lui non l'ho seguito sanremo a me è piaciuto tanto per me va tutti bene per me vanno tutti bene l'importante sono tutti giovani sono bene però vanno tutti bene sono giovani sono giovani che loro cercano di mandare la carriera anche loro facciamo vivere a tutti guardi una cosa squallida anche quella non mi ha dispiaciuto a questa canzone però per me il festival è un'altra cosa l'immagine nel mondo della canzone italiana dovrebbe essere qualcosa di più sobrio non tanto da circo equestre ok non l'ho neanche guardato io assolutamente sì era bello però avrei preferito qualcun altro allora vediamo un po di fare una sintesi delle risposte innanzitutto dove tutti i nostri intervistati guardano la televisione chi più chi meno però comunque la televisione resta davvero qualcosa che davvero è sempre molto seguito dagli italiani e guardano programmi più vari insomma dai telegiornali ai programmi di intrattenimento film e fiction poi per quanto riguarda ad esempio il canone della rai inserito nella bolletta della luce alcuni sono d'accordo perché così almeno tutti lo possono pagare altri invece insomma vorrebbero questo canone venisse cancellato e poi per quanto riguarda invece la appunto la canzone vincitrice del festival mamma de blanco a molti è piaciuta altri magari no e alcuni anche non hanno seguito il festival per quanto riguarda invece la fatto che si dica no che la televisione sia morta loro non credono che questo sia vero insomma e continuerà ad esistere nonostante appunto internet ormai abbia lanciato queste piattaforme streaming dove vengono tutti i giorni si possono vedere delle serie tv e dei film e poi invece non ha nessuno nessuno degli intervistati ha usato il cosiddetto bonus tv emanato dal governo ecco questo insomma ci fa riflettere bisogna informarsi e utilizzare questi bonus perché sono davvero molto importanti bene concludiamo con questa puntata con una frase ovviamente sulla musica abbiamo parlato del festival alessandro d'avegna noto scrittore e sceneggiatore a proposito dice a volte nella musica si trovano le risposte che cerchi quasi senza cercarle e anche se non le trovi almeno trovi quegli stessi sentimenti e stai provando grazie per averci seguito ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di una finestra sul mondo continuate a seguirci ciao ciao